Siamo in via Trigona della Floresta, un cittadino chiede l'intervento delle istituzioni per risolvere un problema, un problema legato a una condizione di disabilità e un ascensore che non consente a questo cittadino di spostarsi. Come si può trovare una soluzione? Ma io quello che farò proprio ora stesso, che fra poco ho un incontro con l'ICP per la questione di via Puccini, è quello che chiederò come mai anche questo ascensore non è a norma. Ma al di là di questo, ora io cercherò di capire qual è la patologia del disabile e cercheremo indubbiamente di venire incontro alle esigenze della famiglia. Voglio dire, abbiamo, io ho chiesto per telefono alla signora che faceva appunto delle recriminazioni, si aveva per esempio fatto la domanda per la SIA, la signora diceva no, ecco tante cose che noi offriamo le persone non le sanno. Quando però veniamo a conoscenza dei casi difficili da gestire, chiediamo indubbiamente di collaborare. Quello che farò ora io, io il signore non lo conosco, non l'ho mai visto, cercherò di capire come possiamo intervenire. C'è anche un problema di abusivismo? Sì, mi diceva che il signore è qui in questa casa, ma io lo devo capire bene, non è un proprietario assegnatario, ma è un abusivo. E questo è un problema molto grosso, perché se è veramente un abusivo, è certo che non potrà mai essere in graduatoria, non lo sarà per cinque anni, quindi è una cosa molto complessa. Grazie.